E' andata benissimo perché ad oggi voglio confermare che a Siano non abbiamo casi positivi. Abbiamo lavorato tantissimo insieme ai volontari, che ringrazio, alla Polizia Municipale, al Comando Stazioni Carabinieri e volevo ringraziare a tutti gli operatori sanitari, 118, i medici di base e agli infermieri che hanno dato una grossa mano. Ringraziando poi la popolazione che si è comportata benissimo. Abbiamo fatto a fine aprile dei tamponi alle due strutture sanitarie che sono risultati negativi. Poi abbiamo fatto i tamponi con la collaborazione dell'ASAL anche a dipendenti comunali, vigili urbani, volontari e che sono risultati negativi. E poi siamo anche stati sorteggiati dalla Croce Rossa Italiana come Comune di Siano per circa 61 persone che verranno contattate a campione per l'asiro prevalenza per questa infezione da Covid-19. Un danno comunque, la pandemia l'ha fatto, oltre alla vita ristretta e chiusa in casa, il vostro prodotto principale in primavera è la ciliegia. Volevo mettere in campo una festa delle ciliegie riportando e mettendo in primo piano il nostro prodotto tipico insieme alla braciola e alla percocca. Certo. A parte il Covid-19 anche la temperatura non ci ha aiutato. Parlando con qualche agricoltore e produttore mi diceva che comunque la poca pioggia e il forte vento che c'è stato ha subito anche dei danni, però comunque anche nel mese di giugno, all'inizio di giugno, il nostro prodotto comunque sarà pure sulle nostre tavole.